Beh, devo riconoscerlo, padre. È venuto armato a dovere stavolta. Grazie. E ha ragione su una cosa. Sì, uomini più forti di me hanno raggiunto la salvazione. Beh, io dico alleluia, cazzo. Ma su un'altra cosa lei si sbaglia. E cioè, mister Kowalski? La cosa che tormenta di più un uomo è quella che non gli hanno ordinato di fare.